Ebbene siamo arrivati a lunedì e quindi andiamo a fare la crypto week andando a guardare cosa sta succedendo come al solito sul mercato di bitcoin ma in generale sul mercato delle crypto e a che punto siamo arrivanti in questo momento di mercato quindi cosa possiamo aspettarci ipoteticamente andando a guardare diversi dati e indicatori nel periodo che dovrebbe essere dopo la fine dell'anno quindi i primi mesi del 2020. Ma prima di cominciare come al solito vi chiedo di lasciare un like, mi serve tantissimo per crescere su questa piattaforma, di commentare qui sotto in qualsiasi domanda, dubbi o curiosità, di andare a iscrivervi al mio canale e attivare la campanina prima e ne sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare. Incominciamo come al solito da CoinMarketCap che fa segnare una capitalizzazione totale di 2136 miliardi di dollari quindi siamo ancora oltre i 2 trillion con un volume nell'ultima 24 ore abbastanza basso 85 miliardi una dominance di bitcoin che arriva al 40.7% e di ethereum al 21%. Andiamo a guardare i dati per quanto riguarda i gain delle criptovalute almeno le top 10 e troviamo prima di tutto una cosa molto importante ossia 2 tra le stablecoin più importanti nelle top 10. Questo significa che il mercato sta accumulando e infatti non abbiamo perso molta capitalizzazione dal precedente dump ma abbiamo comunque accumulato e lasciato i nostri introiti all'interno delle stablecoin come anche tra parentesi BUSD che sta risalendo la china. Dopodiché troviamo bitcoin al meno 5.96%, ethereum al meno 5.63%, binance coin al 6.92%, solana al più 3.62%, cardano al meno 7%, xrp al più 3%, terra luna con un più 30%, avalanche con un più 22%. E in questo caso andiamo a vedere anche le top gainer della settimana che troviamo tra cui year finance con un più 60%, arview con un più 34%, terra con un più 34%, hbar con un più 26% e avalanche con un più 22%. Mentre le top loser della settimana abbiamo gala con un meno 23%, internet computer con un meno 21%, oasis network con un meno 20% e ravain con un meno 19%. Andiamo a guardare inoltre un dato abbastanza importante, ossia la price action di bitcoin, ma voglio mostrarvi subito un indicatore molto importante, si chiama MOM, ossia Momentum, va a segnare il momento nel quale il mercato sta vivendo. E andiamo a guardare che ogni volta che è stata rotta la trend line dei massimi abbiamo sempre avuto un impulso rialzista. Vedete per esempio in questo caso purtroppo non c'era perché logicamente non era proveniente da un periodo, ma era proveniente semplicemente da un dump importante, ma comunque se volessimo anche solo andare a proiettarlo potremmo anche solo proiettare in questa maniera. E in effetti andando a proiettare in questa maniera vediamo che comunque qui c'è stata una rottura e poi un piccolo massimo del periodo, dopodiché un grossissimo dump e ha incominciato poi a salire dopo questo periodo. Nel momento in cui invece c'è una grossa volatilità possiamo vedere un indicatore che è molto più attendibile, ossia andando a segnare i top in questa direzione vediamo che alla rottura c'è stato il pump che poi ha portato a questo nuovo top. Dopodiché vediamo un'altra rottura di questa trend line, abbiamo trovato il nuovo all time high. Ad oggi stiamo vedendo ancora una volta una possibile rottura di questa trend line e quindi ipoteticamente anche una nuova bull run rialzista che non dovrebbe essere la prima, la seconda, la terza o la quarta di una lunga serie, potrebbe tranquillamente essere anche l'ultima di quest'anno e magari non toccare neanche gli all time high ma rimanere comunque in sordina e se qualcuno si fosse posizionato in maniera giusta andare comunque a far fare qualche gain. Ma andiamo direttamente sulla price action e andiamo a guardare una cosa abbastanza importante, ossia il fatto che si è creato questo cluster di prezzo tra i 51.000 e i 45.000 che è diventato abbastanza importante e sta mantenendo la sua posizione da diverso tempo. ormai siamo dal 4 di dicembre fino praticamente ad oggi al 21.000 abbiamo visto che comunque precedentemente abbiamo avuto altri range che sono durati sicuramente molto di più, per esempio questo range è durato all'incirca 78 giorni, mentre il range che stiamo vivendo in questo momento è ancora semplicemente a 16, quindi potremmo vedere ancora un altro mese intero di range del prezzo. dopodiché vediamo cosa sta succedendo con le medie mobili semplici, abbiamo una 50 periodi in blu e una 200 in rossa che si stanno avvicinando per andare a segnare un nuovo death cross. Sappiamo benissimo che ogni volta che c'è un death cross normalmente il prezzo, vedete in questo caso, va a perdere in maniera importante, dopodiché nel golden cross, vedete in quest'altro caso, c'è una ipotetica ripresa del prezzo e quindi un nuovo pump come c'è stato in questo caso, come c'è stato in questo caso, insomma, normalmente è abbastanza affidabile questo indicatore, anzi questa incrocio delle due mese. Il golden cross è quando la 50 periodi passa sopra la 200 periodi nel grafico con candele da un giorno, quindi time frame giornaliero, mentre la death cross è quando nel time frame giornaliero la 50 periodi va sotto, quindi crossa in dump la 200 periodi. In questo caso praticamente dovremmo vedere una nuova death cross, stiamo parlando comunque almeno di una settimana di tempo, ma potrebbe capitare. Un'altra cosa che potremmo anche andare a vedere è un repentino pump, dato che questo dato del momentum ci va a segnalare un'ipotetica nuova gamba rialzista, movimento rialzista, ma ad oggi non siamo abbastanza certi di tutto ciò. Andando a guardare comunque in maniera più dettagliata questo grafico vediamo subito che comunque abbiamo un canale che si sta andando a creare in questa direzione, adesso ve lo disegno e possiamo anche ipotizzare che il canale possa essere una semplice bear flag, ma sappiamo bene che insomma non abbiamo una certezza di tutto ciò. Io lascio sempre l'analisi tecnica il tempo che trova perché dobbiamo sempre comunque basarci sia su analisi fondamentali che analisi tecnica. Quindi andiamo a guardare l'analisi fondamentale e vediamo prima di tutto che anche se abbiamo raggiunto un nuovo all time high per quanto riguarda il potere di calcolo applicato sulla blockchain di bitcoin a 181 milioni di tera hash, ad oggi siamo scesi a 165. Questo non significa che i miner hanno mollato o hanno depotenziato, è proprio così che funziona anche perché questo come vi ho già detto è un calcolo statistico probabilistico, non è un calcolo preciso, è basato su diversi fattori che purtroppo vanno a inficiare a causa di alcune tempistiche della blockchain stessa di bitcoin. Ma intanto siamo comunque in una fase di positività, quindi rialzo. Dopodiché andiamo a guardare l'indice Fear and Greed che momentaneamente segna una paura folle, quindi stiamo in un periodo nel quale ipoteticamente abbiamo paura di ciò che sta succedendo sul mercato e quindi molte persone stanno vendendo. Quindi questo per le mani forti è il momento o di detenere o addirittura di acquistare posizioni per chi se lo può logicamente permettere, non tutti quanti possono permetterselo. Andando a guardare invece le 5 cose da tenere presente su bitcoin, vi vado a parlare sulle più importanti, non vi vado a tenere su tutto quanto perché alcune sono comunque già state dette in ciò che ho detto prima. Tra cui, allora, i minatori continuano a tenere duro, questo significa che i miner, anche se stanno continuando a minare e a guadagnare blocchi di bitcoin, continuano a non vendere. Infatti questo è il momento nel quale mostra il più basso outflow, quindi uscita di volumi dai wallet dei miner. Quindi i miner momentaneamente non stanno vendendo le proprie criptovalute perché pensano o comunque detengono una grossissima quantità e dato che sta arrivando un ennesimo halving da qui a qualche anno che segnerà in maniera molto più importante questo mercato, loro preferiscono dal mio punto di vista detenere il più possibile e mantenere fino a quando è ancora un momento buono per andare a minare. Dopodiché andiamo a guardare un altro dato, ossia il dato del GBTC, che non è nient'altro che l'indice che va a definire il Grayscale Bitcoin Trust. Non è nient'altro che l'insieme di tutti i bitcoin fisici che sono detenuti dall'azienda Grayscale che ha messo a disposizione di tutti i suoi investitori e per andare a investire sul GBTC praticamente noi dobbiamo andare ad acquistare un minimo di un bitcoin andando a comprare logicamente il loro indice. In questa maniera cosa succede? Che esiste un ritorno a livello di risonanza sul mercato perché nel momento in cui andiamo ad acquistare un bitcoin automaticamente Grayscale dovrebbe detenerne uno. dopodiché abbiamo anche una specie di etf a replica fisica e in effetti sono proprio pronti loro a andare a convertire il loro GBTC in etf. Fino a quando però purtroppo non gli daranno il via libera rimarrà un semplice indice per loro o comunque per la loro azienda e per tutti coloro che stanno investendo. Abbiamo già parlato dei piedi freddi si gelano, vabbè, di questi qua è una traduzione dell'inglese non c'è ancora la versione italiana però la realtà dei fatti è proprio che in questo momento abbiamo una estrema paura sui mercati e quindi in questo momento tutti sono fermi e tutti sono gelati ma come vi ho fatto vedere già prima abbiamo tra le più capitalizzate comunque due stablecoin cosa che bene o male non succede mai. Normalmente abbiamo sempre soltanto USDT addirittura USDC che è arrivata in sesta posizione significa che abbiamo un grosso volume quantitativo di moneta stabile che è pronta per uscire e andare ad acquistare in maniera esponenziale le criptolute che sono ancora all'interno del mercato. Ultima notizia non per importanza su Uniswap V3 verrà applicata anche la possibilità di utilizzare la rete Polygon è stato valutato con 99.3% di consenso per quanto riguarda logicamente la DAO di Uniswap in questo caso praticamente avremo la possibilità di poter utilizzare Uniswap quindi un importantissimo exchange anche basandoci sulla rete di Polygon e questo ci dà la possibilità di poter effettuare delle transazioni con delle gas fee molto molto inferiori più veloci e sicuramente avere comunque la sicurezza della insomma degli smart contract di Uniswap che sono tra i più sicuri perché logicamente anche avendo un volume maggiore sia di utenti che di investimento sono anche quelli più testati rispetto a tutto il restante del mercato non che la Binance Smart Shake & Pack Swap non siano buoni questo è sempre comunque una specie di copy and call all'incirca ma Uniswap è diciamo il leader momentaneamente di mercato e quindi come avete visto anche questa settimana abbiamo un andamento che spinge verso il rialzo del mercato cripto e quindi anche di Bitcoin ma non una certezza matematica da parte dei dati perché purtroppo in questo momento non abbiamo una sicurezza che il mercato riesca a sostenere un ipotetico ritorno di ancora un nuovo lockdown, altre varianti per quanto riguarda la pandemia e quant'altro sappiamo benissimo che siamo in una situazione di macroeconomia molto molto volatile, variabile inoltre abbiamo un'inflazione esagerata e quindi non sappiamo come il mercato possa rispondere nel breve ma siamo certi che nel lungo sicuramente il mercato delle criptovalute continuerà a guadagnare e a vincere io vi ringrazio come al solito per aver visto il video vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale attiva la campanella per rimanere sempre al giorno tutti i video che vado a caricare andrà a visitare il mio account Instagram e TikTok davidevasco85 e se volete contattarmi su Telegram davidelinetta bassa vasco ricordatevi che non contatto nessuno quindi se venite contattati da qualcuno con Davide sappiate che è qualche scammer vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti